ciao buongiorno a tutti sono jennifer cabrera fernandez e in questo momento stiamo per iniziare una conversazione un branch come ultimamente stiamo facendo con un personaggio che davvero sono molto interessata a conoscere tutto per quanto riguarda il suo lavoro è un musicista un compositore un cantautore italiano che mi è piaciuto molto andrea salini nasce a roma nel quartiere trastevere e ok visualizzo trasmettiamo in diretta e dicevo andrea salini nasce a roma ciao andrea ciao jennifer come stai ti ringrazio intanto per per questa conversazione e ultimamente sto facendo questi branch perché avendo anche in questi giorni un po il tempo mi interessa molto conoscere gli artisti come te in italia avere un po piccolo non dico confronto però conoscere la spazialità la profondità di tanti artisti che ci sono veramente non pochi saluto anche al maestro giorgio rossi che ci sta salutando certamente lo salutiamo anche da qui da vedre l'asalto allora andrea nasci a roma nel quartiere trastevere il 27 giugno del 1977 l'anno del movimento dei movimenti esattamente esattamente e quel periodo il mio papà lavorava a roma e quindi la mia famiglia le ragioni di lavoro si trovava lì e io sono nato in quel di trastevere e ho trascorso una parte della della mia della mia infanzia ad ostia lido e poi dopo siamo tornati nei luoghi di origine ok quindi in effetti qua è scritto insomma che trascorri la tua infanzia ostia ad ostia e poi sì hai fatto hai avuto una un'esperienza anche grazie forse anche a tuo fratello sei andato all'interno insomma di questa spazialità di questa musicalità molto rock sì sì sicuramente avere avuto un fratello più grande che era fan del rock e roll in quegli anni primi anni 80 ha aiutato molto il mio percorso formativo è stata sempre una un elemento costante nella mia vita la musica ho trascorso tutta la mia infanzia ascoltando i nastri del rock che c'era in quel periodo e poi la chitarra è diventata un'esigenza e da lì piano piano attraverso vari percorsi è diventata una professione quanto cioè quanti anni avevi quando hai iniziato a studiare la chitarra perché allora il perché è legato al fatto che solo l'ascolto poi non mi bastava più quindi volevo provare proprio l'emozione tirando fuori dalle mie mani qualcosa di musicale i primi tentativi quando frequentavo l'istituto superiore a scuola a rieti da autodidatta con ahimè non grandissimi profitti da lì poi mi sono rivolto a degli insegnanti professionisti poi quando ero un po più adulto diciamo e lavoravo ancora in fabbrica ho frequentato l'istituto musicale i cherubini di roma che è una scuola molto importante poi l'università della musica dove ho conseguito il diploma in chitarra moderna e poi il primo album nel 2010 insomma un viaggio che ormai dura da più di vent'anni e che mi ha portato devo dire a percorrere tante tante strade diverse sì in effetti ti ringrazio molto perché mi è arrivato il vostro il tuo ultimo album che il quarto sì esatto c'è il quarto album qual è stato il tuo percorso e cioè quattro album sono non sono pochi no 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 io inizialmente ero interessato solo a suonare la chitarra non mi pensavo alla composizione o al mondo della discografia era quasi un'esigenza quello di suonare la chitarra elettrica in particolare e ho messo su una prima formazione una prima band power trio che si chiamava barricata 22 preso dal titolo di una rock band italiana e da lì pur di suonare la chitarra ho iniziato a cantare per la formazione minima prevede chitarra basso batteria e poi qualcuno del mestiere ci ha fatto notare che avrei potuto tentare di scrivere cose mie caldeggiato anche da mio fratello dalla mia famiglia da mia moglie quindi è stato un processo anche involontario Jennifer non non voluto e quindi quando tu conosci l'altra parte della medaglia io nella mia vita ho fatto oltre insomma laurearmi per sulla chitarra ho lavorato molto anche in ambienti duri il cantiere la fabbrica il bosco quindi mi sono sempre detto se dovessi tornare indietro conosco già qual è l'alternativa quindi l'ho fatto in maniera serena continuo a farlo in maniera serena senza aspettare grandi svolte ma semplicemente percorrendo questo viaggio lungo che ti porta ovunque con la fantasia ma anche fisicamente noi abbiamo suonato molto in italia un po anche all'estero e il nostro sogno è quello di di suonare anche oltre oceano quest'anno abbiamo avuto un modo di fare un'intervista anche in collegamento con città del messico sicuramente siamo legati a alle popolazioni ancestrali di ogni dove insomma ci interessa chi è legato alla terra che vive la propria terra come facciamo noi cerchiamo di rivendicare la nostra identità la nostra provenienza sì in effetti per come inizia sono stata sorpresa per come inizia questo questo album che si chiama roses una domanda hai fatto hai scritto sempre in inglese o hai iniziato con l'italiano e poi sei cioè hai fatto il passaggio allora i primi due album contenevano sia composizioni in italiano che in inglese e anche strumentali anche i brani strumentali sono una costante nelle mie produzioni perché sono molto ispirato anche dal cinema oltre che dalla letteratura e sicuramente la natura resta la fonte di ispirazione principale nel tempo ci siamo accorti che la nostra musica comunque veniva accorta molto in nord italia nord europa e all'estero comunque anche paesi latinoamericani e il sound soprattutto della chitarra elettrica si sposa forse meglio come con l'idioma inglese quindi venuto un po in maniera naturale senza scelte veramente commerciali piuttosto con il desiderio di di dare risalto anche ai contenuti la mia musica è stata sempre comunque politica nel senso buono del termine e attenta al sociale a già in dottorain de mistride avevamo scritto un brano made in messio che parlava di subcomandante marcos su maestrale c'era un brano siamo indios lampo gamma un album tutto incentrato sui problemi dell'ecologia e così roses che parla dell'universo femminile quindi siamo convinti che i nostri messaggi di pace solidarietà debbano arrivare a più persone possibili sì in effetti mi piace molto per questo 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 album che poi andremo un po a visitare ogni brano magari forse non tutti però quello che vuoi complimenti a tutti voi perché hai anche dei compagni di viaggio molto bravi dei professionisti sicuramente sia dal punto di vista delle produzioni finora mi sono rivolto sempre a professionisti italiani internazionali ma sicuramente anche i membri della mia band che ormai è consolidata siamo riusciti a fare una quadra e saluto tutti i ragazzi poi se avremo moduli chiamandoli per nome è un aspetto difficile per le band roffe negli anni mantenere un organico perché quando sei sei giovane è tutto uno scherzo ci sono le influenze esterne e sai ragazzi sono un po volubili ognuno poi c'è anche la sua vita parallela quindi cercare dei professionisti assoluti è difficile perché sono sempre in balia dei contratti che possono presentarsi quindi io adesso sono riuscito a mettere insieme un manipolo di musicisti professionisti che fanno altre cose ma che credono molto nel mio progetto e che insieme a me hanno messo appunto un sound che ci contraddistingue perché è molto importante per i musicisti avere una propria identità anche dal punto di vista sonoro stilistico sì comprendo molto bene in effetti ha un po un retrogusto che poi tra l'altro mi piace molto 80s poi oggi ho indossato qualcosa un po più 80s perché mi ricorda anche i miei momenti rock da ragazza quindi sì insomma però ha anche anche la freschezza cioè si sente che anche di questi giorni sì sì ti ringrazio per questa osservazione acuta che tu hai fatto Jennifer perché la ricerca che io compio negli anni è sempre molto profonda dall'ultimo album a roses sono passati tre anni in quei tre anni ho avuto modo di fare ricerca proprio sui libri per capire quali potevano essere nuovi spunti nuove idee quindi avrò ascoltato che ne so diciamo almeno 200 album nuovi di stili differenti che ti fanno restare aggiornato ma che tirano fuori un po quello che tu hai appena detto pensiamo a prince no vedendo la tua vista di oggi io sono un po figlio di quegli anni perché è vero che sono nato nel 77 ma l'infanzia e l'adolescenza è stata influenzata sicuramente anche dagli anni 80 anche se non dall'hally wave nel mio caso piuttosto da spree sting o dai pin floyd da tante cose quindi è quel viaggio di cui parlavamo parla anche di questo di avere ancora la curiosità di aggiornarsi di fare ricerca io compro gli album compro spendo tutte le mie risorse che posso tolte quelle destinate alla famiglia in libri fumetti lp cd perché è il mio lavoro si si sente si sente che c'è un background non soltanto musicale ma c'è c'è lettura c'è società c'è ci sono come momenti storici moderni anche contemporanei oppure di qualche decennio mi piace molto e quindi questo tuo quarto album è uscito quest'anno sì in realtà sarebbe dovuto uscire a maggio in tema anche con il titolo il mese delle rose volendo e abbiamo optato per una diciamo per un piccolo ritardo e quindi è uscito a fine settembre perché pensavamo di poter suonare nei teatri in questo modo gestire in maniera più sicura il nostro pubblico poi quello che ci circonda che sappiamo non ce l'ha permesso finora stiamo in attesa nonostante questo la promozione va molto forte l'album sta avendo un grande riscontro di critica di pubblico sia sui social che sulle riviste specializzate sulla carta stampata quindi sono contentissimo ci manca un po' il contatto col pubblico con la band prima di tutto sì ti capisco anche su questo allora roses la parola la parola evoca colori e però poi odori e anche indirizzato alle donne grazie 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 per l'ommaggio poi tra l'altro sai che l'ho ricevuto è arrivato a casa esattamente il giorno 25 novembre che è una giornata insomma per noi molto simbolica forte perché contro la violenza sulle donne no? penso a casa esattamente mi è arrivata questa questa bella cosa me lo sono ascoltata subito sì è una sensazione poi ovviamente diversa è anche un bello oggetto per come l'avete progettato sì 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 come come hai pensato a questo cioè al di là della musica i testi poi il primo dicevo prima il primo brano è evocativo quindi ti trasporta un po' mi sono sentita anche a casa mi ha sorpreso ma dopo di che ci sono i brani cantati poi tra l'altro hai una bella voce grazie interpreti bene le tue creazioni che non è scontato eh no 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 non è scontato e quindi eh sì mi puoi parlare di ogni brano mi sono interessata particolarmente al quarto sì 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 guarda intanto diciamo che tutto è venuto in maniera abbastanza naturale qualsiasi aspetto della produzione e Verum Rosa ero alle prese con alcuni libri di alcune scrittrici italiane e ho scritto quei pochi versi pensando al simbolo della rosa come come poteva essere impiegato per come abbiamo come c'è scritto nella rosa dei venti per le direzioni o come simbolo forza di resistenza della donna di femminilità eh gli odori dicevamo no la rosa è un fiore che puoi sentirne il profumo se ti avvicini molto è come se fosse una sorta di metafora no il fatto delle spine un'immagine che io ho 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 raccolto anche dalle esibizioni che Jimi Hendrix faceva nel fine degli anni sessanta lui era solito mettere una rosa sulla paletta della sua chitarra io questo gesto l'ho l'ho ereditato da lui e lo facciamo con i ragazzi della mia band dal vivo in chiusura se non altro di scaletta quando suoniamo sempre i giochi è un brano che noi reinterpretiamo come omaggio a Hendrix e quindi eh è una metafora in generale su sulle figure femminili che sanno comunque resistere alle avversità della vita e e rinascere poi a primavera citando un po' Serena Tandini con il suo libro Il catalogo delle donne valorose che ha che è stato quello che ha ha fatto sì che finisse quel titolo ok quindi sì è molto sì molto particolare cioè vi da vi inquadra grazie grazie Jennifer e per quanto invece quello che mi dicevi che sentendo Into the Storm ti sei sentito a casa quello era il mio intento insomma Into the Storm inizia con un diciamo uno sciamano che è in grado di prevedere un po' la la le tempeste come si vede per esempio nel film sulla vita di Geronimo e è un invito a a entrare dentro questa tempesta che è la vita in particolare la vita degli artisti che spesso viene fraintesa no? Sembra una cosa per chi vuole cavarsela con poco e andare in giro con le chitarrine invece è un lavoro come gli altri e che ti impegna sempre e quindi questa canzone era un po' un trait d'union tra Lampo Gamma che era un disco di space rock e con Into the Storm siamo tornati sulla terra dentro questo uracano che poi si placa e arrivano le varie tappe dell'album Roses fino a tornare nel giardino di casa dove uno si prende cura delle proprie rose come faccio io e quindi quello è la metafora della vita quotidiana sì sì bello molto bello poi finisce questo album finisce anche con un altro brano che ti riporta di nuovo alla spazialità musicalità senza la voce è evocativo quindi deposita ti fa come depositare tutto ciò che c'è stato prima esatto è un po' il ritorno a casa e la calma della quotidianità della vita di tutti i giorni perché il viaggio è bello perché immagini che imparerai cose nuove ma è bello anche tornare e fare tesoro di quello che hai imparato e condividerlo con gli altri Andrea in questi giorni beh in questi ultimi anni poi vedo che da una parte c'è stata un'evoluzione però poi sento che c'è stata anche un'involuzione sì sono d'accordo dal punto di vista umano sì abbiamo acquisito tante abilità tecniche nelle nostre cose però forse abbiamo perso un po' dal lato etico dal lato umano perché richiede tanta fatica cioè essere persone tra virgolette per bene che rispettano il prossimo e l'ambiente richiede uno sforzo quotidiano perché devi fare sempre la scelta più difficile più faticosa sì 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 in effetti ti volevo chiedere come mai questa ispirazione allora intanto per dedicare un album alle donne è stato naturale perché io come ho detto anche in un'altra intervista con una speaker qualche giorno fa vengo da due famiglie matriarcali perché i nonni ahimè sono venuti meno uno per la guerra uno per motivi di salute quindi le nonne erano quelle che dovevano decidere e dire l'ultima parola quindi quando cresci in una famiglia con tante zie dove le nonne sono delle matriarche ti poni poi in maniera più naturale anche con le tue coetane gli dai il giusto peso quello che fanno quello che possono fare e per quanto riguarda invece la copertina che è stata realizzata da Eleonora Selle che è una giovanissima ragazza di Torino penso al suo primo lavoro per quanto riguarda le copertine io mi sono ispirato alla band di Scarcat degli Aristogatti che è un cartone animato famosissimo e questa chitarra così un po' scassata da dove fuoriesce di nuovo la natura è una dicotomia tra l'arte e la musica che si avvicendano e che si ispirano l'una all'altra è molto bello sì sai per in questi giorni poi così come negli ultimi anni parlando un po' dell'evoluzione e involuzione per quanto riguarda il nostro mondo cose diciamo materiale di questo genere ci dà un po' di sollievo perché ovviamente essere noi donne insieme è meraviglioso a volte è difficile ma riusciamo ma soprattutto che anche gli uomini siano anche ad accompagnarci è fondamentale per fare tutti insieme questo percorso certo è proprio da noi che deve arrivare questo impulso e questo sostegno che ahimè è ancora necessario e infatti quest'album non è un album che io l'ho scritto nella nota introduttiva Le Rose poi un disco può fare molto ma concretamente serviranno poi leggi più severe per chi è preta violenza contro le donne e quant'altro la cosa bella è che questo quest'album nasce in collaborazione con figure femminili molto forti anche se giovani abbiamo citato Eleonora Selle per la grafica dobbiamo assolutamente citare Silvia Leonetti che è una giovanissima compositrice che con me ha realizzato due brani appunto Verum Rosa dove io ho scritto il testo e lei ha messo la musica e The Name of the Rose è scritto diciamo a quattro mani ho scritto una parte con la mia chitarra per il pianoforte lei la seconda parte quella più rassicurante io volevo proprio un tocco femminile non mi sembrava utile realizzare un disco tutto da noi e parlare del genere femminile volevo che le ragazze che in giro in Italia talentuose ce ne sono tante si rimboccassero le maniche insieme a me e questo è successo ed è la cosa più importante sì 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 assolutamente poi i musicisti e musicisti che ti accompagnano parliamo un po' di loro? certo certo assolutamente mi fa piacere anche perché so che te sei comunque anche oltre a ricoprire varie figure artistiche hai una tua band quindi vai sui palcoscenici e sai quanto è importante quella alchimia che deve crearsi con i propri musicisti sicuramente Simone Giallorenzi è stato per la seconda volta il direttore artistico ha suonato il basso, la chitarra d'obro, altre cose ed è una costanza ormai fissa nelle mie produzioni poi John Magaluso è un batterista di fama mondiale che da una decina d'anni vive qui a Rieti e che ha avuto modo di durante l'estate precedente alla produzione di Roses metabolizzare quei brani che hanno un sound anche metropolitano e attratti lui viene da New York quindi c'è un lavoro corale che va dall'America fino al nord Europa e altri turnisti come Pino Saracini o Carlo Di Francesco alle percussioni c'è un album che ha visto tanti viaggi nel viaggio perché è stato scritto a Petrella Salto è stato registrato a Roma è stato missato in Toscana da Fabrizio Simoncioni che è uno dei fonici più fuori al mondo adesso in circolazione ha vinto un Grammy per la musica latin e questi viaggi noi li abbiamo fatti personalmente con la nostra macchina e poi il mastering a Milano quindi è stata una grande avventura e finché non arriva il CD a casa ti stai un po' sulle spine quindi noi avevamo l'album pronto proprio nei giorni in cui poi c'è stato il primo lockdown e quindi avevamo fatto tre anni di fatiche enormi risorse anche economiche e tutto era fermo al palo perché mancava l'ultima fase però alla fine siamo riusciti e quindi mi fa piacere poterne parlare oggi con te e con tante altre speaker è successa questa cosa magica che quasi tutte le interviste che ho fatte le ho fatte con delle speaker con delle signore preparatissime che fanno tante cose e che dimostrano quanto poi le donne sono impegnate in vari aspetti della vita Sì, grazie e poi insomma, beh, tra l'altro io non sono una speaker però appunto sempre per il mio interesse nel conoscere un po' il mondo dell'arte in tutti gli ambiti e poi parlando dell'ambito musicale insomma, mi piace trovarmi, no? dentro, sapere, conoscere poi sono, essendo anche, beh, abitando qua sì, mi piace un po' conoscere questo mondo, no? da parte di altri musicisti e poi di un genere molto diverso poi da quello che realizzo però insomma, la musica è tutta non bisogna avere un linguaggio in sé parlando poi appunto sempre della parte musicale e poi questa scelta, secondo me però questo è solo, secondo me della lingua è stata importante cioè, non solo musicalmente però così avete anche un'opportunità di avere altri ascoltatori che capiscono anche il testo perché il testo è molto importante nelle tue opere sì, è importante perché il messaggio non può essere frainteso quando prendi una posizione quando ti schieri da una parte di qualcuno nel nostro caso dalla parte di chi ha più bisogno d'aiuto il messaggio è inequivocabile ed è importante io ho in questi giorni mentre pensavo a questa nostra intervista sono andato a vedere un po' quello che realizzi anche tu ed è molto bello e ti posso dire che non è così lontano il mondo del rock'n'roll dalle cose che tu fai etniche che possono per esempio riguardare l'Africa perché la scala pentatonica che viene dalla musica etnica africana è la base del blues ed è la base di tutta la musica moderna le cinque note magiche il problema è che a volte vengono un po' usate senza troppo cuore senza troppo sentimento quindi quello che dicevamo prima oggi è pieno di musicisti che sanno suonare tutto che possono riproporre qualsiasi cosa con la tecnologia con le tecniche c'è il web che ben venga ci mette a disposizione tante lezioni anche gratuite e tutti possono emanciparsi e fare delle esperienze però per emozionare gli altri devi avere delle storie tue o che comunque senti due e attraverso poi neanche sette note ma attraverso quelle cinque note della pentatonica cioè io oggi ci ha fermato questa cosa ma immagino che potrei un giorno raggiungerti con la mia chitarra e suonare insieme ai tuoi musicisti senza preparare nulla perché c'è un filo conduttore in tutte le culture sì 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 beh speriamo che accada prima o poi come state vivendo in questo momento il lockdown guarda io mi ritengo fortunato Jennifer perché vivo in un paese di montagna con poche persone ci conosciamo tutti metà siamo parenti e possiamo godere della natura che in questo momento sta cambiando l'autunno cioè del passo all'inverno e fino ai primi giorni di novembre io ho fatto un'ultima intervista in presenza in una radio di Padova il Veneto è una regione che ci ha accolto sempre con grande clamore e ho degli appuntamenti anche in una radio di Rovigo in una radio di Stavicino Verona abbiamo fatto un live al MEI al meeting degli indipendenti di Faenza e ci manca solo il concerto io non sono un musicista che sa accontentarsi di quello che ha a disposizione investo molto piuttosto che comprare una chitarra nuova investo in biglietti aerei biglietti di treno stanze d'albergo per suonare anche quando il cachet è poco o quando c'è da fare un'intervista in diretta quindi ci manca solo il contatto col prossimo il fatto di stare con la band di abbracciarsi prima e dopo il concerto quello sì 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 comprendo anche qui pensa che ti parlo di un passaggio personalissimo cioè dovevo partire con il mio progetto sciamanica che è più danza anche musica per il Messico e siamo rimasti a terra in Italia quindi sì sì guarda io un po' di stragi questo mi dispiace perché questa cosa questa cosa che ci manca a te a me a tanti come noi non si può comprare fortunatamente sì fortunatamente sì l'hai detto si può realizzare solo insieme agli altri gli altri che lo fanno con te gli altri che assistono e che dove c'è questo scambio di emozioni tra te e il pubblico quel momento irripetibile che uno dovrebbe in qualche modo fissare la propria memoria a volte ci riusciamo a volte no perché sono degli attimi dei frammenti che chi suona o chi fa un'esibizione teatrale per quanto riguarda l'aspetto del ballo vive in quell'attimo tu ti prepari ore e ore e ore e poi dici scendi dal palco e dici già è finita quindi dici quando sarà una nuova avventura quindi questo ci manca penso a tanti sì e mi auguro che ci sia ancora più consapevolezza di questa di questo rito certo speriamo che come quando finivano le guerre la gente ritrovi più voglia di stare insieme più voglia di assaporare le cose belle della vita che poi sono quelle che appunto diciamo non possiamo comprare sì così come l'arte cioè la musica la danza le arti effimere si chiamano così però che poi ti rimangono indelebili all'interno dell'essere il teatro in sé ma qualunque spazio anche all'esterno dal momento in cui tu fai un movimento fai una nota fai qualcosa che hai trasformato i tuoi pensieri si cristallizza in qualcosa di diverso di evocativo eccetera insomma è arte è teatro non ci vuole la pedana no 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 io intendevo quella sensazione che c'è quando tu fai un'esibizione e qualcuno avverte quello che tu vuoi comunicare ed è una cosa molto molto bella per l'artista è quello che ti fa essere poi nella vita ti qualifica come artista sì assolutamente ma dimmi una cosa questo concerto che avete fatto live l'avete fatto tutti insieme solo alcuni di voi come è stato fatto grazie per questa domanda erano credo i primi di ottobre e siamo riusciti ad andare solo in tre perché due dei miei ragazzi Fabio Vestilli e la batteria erano alle prese con un grande esame per la sua carriera di avvocato che è andato poi benissimo e l'altro ragazzo Francesco Marianetti era alle prese con sempre con la sua professione che lo vede in giro e quindi siamo andati in tre quindi due chitarre acustiche con i cori e il basso di Daniele Signorino con me c'era anche Domenico Di Girolamo così li abbiamo nominati tutti ed è stato rivivere qualcosa che ci ha rifatto respirare proprio perché anche se eravamo solo in tre abbiamo sonato su un palco c'era molto volume c'era molta gente era all'aperto a Faenza in una città bellissima al meeting delle etichette indipendenti abbiamo incontrato alcuni dei nostri eroi come Omar Pedrini dei Timoria che ci ha autografato i dischi che avevamo comprato da ragazzi abbiamo parlato con lui è stata un'esperienza veramente bella che per un attimo ci ha fatto tornare alla nostra vita poi abbiamo fatto anche altre cose in diretta acustico nelle radio ma non è uguale l'unica sensazione rivissuta è stata quella di questo set unplugged nella piazza di Faenza che ci ha fatto respirare di nuovo e ci ha dato un impulso nuovo per comunque continuare anche solo un concerto può rimetterti un po' a galla sì 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 infatti stavo per dire molto unplugged che è anche sicuramente molto molto bello diverso molto interessante come suono più da ascolto più intimo sì abbiamo proposto Love Song abbiamo proposto Roses e anche alcuni brani come se non ricordo male Indios la canzone del lupo che sono dei singoli delle prime produzioni che comunque ci caratterizzano caratterizzano il nostro modo di vedere le cose di pensare anche al prossimo e ai problemi che ci sono in giro insomma anche quando sarà passato il covid i problemi da affrontare ce ne saranno molti non solo quello delle disuguaglianze sociali delle categorie più in difficoltà e quindi quando realizzi un album che ha quelle tematiche da un lato riesci a far capire proprio chi sei da un lato tagli tutta una fetta di mercato che non è interessata a quelle cose ma io non ci penso minimamente insomma non è importante quello per me è importante che ci sia un messaggio che io sento sì certo sei l'artista che propone sì capisco anche qui beh ne approfitto poi per salutare le persone che ci stanno vedendo e soprattutto ringrazio Davide De Michelis che è stato il ponte di questo di questa di questa conoscenza me ne aveva parlato con grande entusiasmo ho detto beh certamente sono aperta vediamo sentiamo e sì sono rimasta veramente molto molto contenta molto positivamente sorpresa non che abbia delle aspettative di chissà che cosa però sai bene che quando insomma ascolti della bella musica è sempre bello certo certo io anche ringrazio Davide che è stato un incontro molto emozionante molto spontaneo e molto sincero durante le scorse estate abbiamo trascorso tutta una giornata insieme parlando dei viaggi specialmente di quelli che lui ha realizzato per il suo lavoro delle tante persone che ha incontrato e che io poi ho conosciuto per il momento tramite i social come nel tuo caso e abbiamo riscontrato tante affinità dal punto di vista della letteratura del pensiero etico di quello di come uno si pone con gli altri quindi il viaggio vedi porta sempre qualcosa di buono e ha portato l'incontro con questa persona speciale che ha ampliato ancora di più i nostri orizzonti non s'altro sì sì che poi tra l'altro saluto tuo fratello perché ho sentito tuo fratello sai che mi piace molto questa cosa di avere la ditta di famiglia sì sì è bello è bello è bello perché è successo in maniera naturale negli anni all'inizio quando abbiamo fatto il primo disco sembrava quasi una sorta di laurea di tesi di laurea poi invece negli anni io ho perseverato a lungo e persevero e quindi è venuto naturale che anche la figura di mia moglie Arianna è molto presente lei come ti dicevo mi aiuta anche per quanto riguarda il lavoro sui social o delle scelte anche stilistiche alcuni brani che ha proposto come cover li abbiamo presi dalle sue idee quando registrammo Lampocamma mi disse perché non metti una cover dei Credence e Bad Moon Rising e sta lì grazie a lei tante canzoni le ritroviamo perché lei mi diceva registrati che poi non ti ricordi e quindi l'aiuto valido di una donna che poi è tua moglie è un'azienda di famiglia in pratica sì sì brava bravi tutti Andrea è arrivato il momento delle domande futili ma no io sono curioso di ascoltarti e ascoltarti allora quando vai a letto quando dormi così pancia in su in giù di lato ma non c'è un rito particolare io spesso arrivo vado a dormire con le mani con i piedi stanchissimo riesco a leggere qualche riga e cerco sempre prima di dormire questo lo faccio sempre di farmi un esame di coscienza di capire se almeno per quel giorno mi sono comportato bene verso il prossimo questa è una cosa che faccio sempre molto profondo preferisci il tè o il caffè? a tratti tutti e due sono un italiano diciamo un po' atipico perché se ho tempo la birra su tutto se ho tempo mi piace molto il tè quando mi serve una cosa di carica subito prendo il caffè però ok quindi al mattino fai la colazione dolce o salata? dipende dipende non di sdegno quando siamo in tour quando giriamo faccio sempre le colazioni internazionali con le uova il bacon quando sono a casa dipende dal tempo l'inverno facciamo sempre una stremuta anche per mia moglie perché lei lavora in sanità con i bimbi piccoli quindi è una sorta di scudo e comunque in generale io sono un buon gustaglio Jennifer nel senso che mi piace la buona tavola mi piace il vino la birra qualsiasi cosa la terra ci può offrire da quel punto di vista anche se sono uno sportivo faccio attività sportiva in maniera intensa mi tengo in forma dipende dal momento sì sicuro ma poi tra i vini preferisci il bianco e il rosso preferisco il bianco ok mi piace molto il verdicchio dei castelli di Chiesi i vini bianchi del nord Italia e comunque anche la birra dipende da dopo lo sport io ho praticato arti marziali per buona parte della mia vita in questo periodo sto facendo un corso col mio sifo Alessandro di GITGUNDO che era un'arte marziale creata da Bruce Lee da un paio d'anni dopo lo sparring dopo le attività forti beviamo molto la birra è un grande reintegratore molto bene Andrea grazie davvero penso che che questo questo materiale possa viaggiare io ve lo auguro tantissimo te lo auguro di cuore viaggiate con roses viaggiate con la musica perché così ci fai viaggiare anche noi ascoltatori pubblico grazie anche te con i tuoi progetti che ho visto sono davvero molto belli e curati ti auguro un grande in bocca al lupo e ti auguro di poter fare ancora tanta tanta strada con tanti viaggi beh grazie sì speriamo di riprendere appena finisce sta cosa spero si possa si possa riprendere al più presto sarà un pochettino difficile però non impossibile piano piano ci crediamo grazie mille ciao grazie 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 a tutti